pronti? a chi li prende al volo eh? uno due tre nessuno di due bravi aspetta eh ti proviamo ti proviamo in posizione in posizione seduti seduti uno due e tre nessuno di due grandi cani destinati all'estinzione pronti a prendere al volo? biscottino? niente! biscottino? niente! secondo biscottino al volo? da vicino? zero! su quest'altro biscottino? niente! niente! in faccia! questo biscottino? bravo! niente! bravissimo! ha avvento il volo! quant'è cattiva! bravo! 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 bravo!